Il depuratore di Alba Adriatica, inaugurato circa un anno fa, è entrato pienamente in funzione. Nei giorni scorsi tre squadre di tecnici della Ruzzoleti hanno lavorato per collegare la parte residuale dei reflui di Villa Rosa e quelli di tutto il territorio di Alba Adriatica. L'impianto, uno tra i più grandi e moderni d'Abruzzo, oltre al territorio di Alba Adriatica, serve i comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto. Il depuratore, costato circa 10 milioni di euro, di cui 9 di fondi regionali, ha una capacità depurativa di circa 90.000 abitanti equivalenti. È dotato di tre linee di trattamento acquerefluo e fanghi attivi e di ben sette vasche ed è destinato a ricevere progressivamente tutti i reflui provenienti dai principali centri della Val Vibrata, con la graduale dismissione degli impianti di depurazione di piccola e media taglia. È un giorno importante, ha commentato la Presidente Alessia Cognitti, non solo per i comuni interessati, ma per tutto il nostro territorio. Il depuratore permetterà alla Ruzzoleti di migliorare ulteriormente il servizio di depurazione. Questo è un passaggio fondamentale. Un processo depurativo d'eccellenza significa servizi più efficienti e soprattutto mare pulito per la popolazione della provincia di Teramo e per tutti i turisti che trascorrono l'estate sulla nostra costa. Il depuratore di Alba non è un unicum, continua la Presidente, basti pensare alla nuova condotta litoranea adduttrice all'acquedotto, 20 chilometri di condotta etrica che toccherà i comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro per un importo totale di 19 milioni di euro. Fondamentale la piena funzionalità del nuovo depuratore, ha aggiunto il sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti. Non solo per la tutela ambientale, ma anche per i servizi resi alla comunità e per la baneabilità delle nostre acque, obiettivo primario per lo sviluppo turistico del nostro territorio.